ciao pace ciao cagliostro sono il vostro inviato segreto alain grà con licenza di ridere e qui in questa bellissima fontana ho trovato questa ragazza che sta prendendo il fresco senti come ti chiami Elena Elena ci racconteresti una barzelletta per indico il tubo c'è Pierino a scuola e dice alla maestra maestra me stanotte ho dormito con il babbo maestra dice Pierino non me io stanotte ho dormito con il babbo Pierino ci pensa un po' e poi dice no 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 vedrà che è un'altra sera perché stanotte c'era anche la mia mamma brava complimenti ma lo sai c'hai l'arte nel sangue te ne raccontare le barzellette e proprio per questo io ti volevo proporre una cosa io sono anche regista cinematografico ho scritto un film che a primavera girerò e sto cercando chiaramente delle attrici per ruoli femminili non mi fido tanto eh no ti rispetto no vabbè ciao paci ciao agliostro